ma veniamo a tutt'oggi ecco stiamo perdendo tutte le conquiste non esiste più una società pronta a reagire una società praticamente morta e questo che stiamo fotografando ecco una società che potremmo dire ha tradito i loro padri cosa ne pensa? Allora tieni presente che le conquiste che noi abbiamo fatto praticamente era che la classe operaia era stratificata quindi i diritti non erano uguali e cioè gli operai avevano 10 giorni di ferro e l'impiegato non aveva 20 la malattia dei primi tre giorni all'operaio non era riconosciuta all'impiegato era riconosciuta cioè c'erano queste disugualianze spaventose e quando noi abbiamo portato avanti il discorso dell'equalitarismo e le grandiosi lotte queste cose le abbiamo ottenute e questo è stato veramente un salto di qualità spaventoso si è talmente omogeneizzata la classe lavoratrice che il distingo del capo dell'assistente del caporeparto del capogruppo e così via come gerarchia di comando era quasi sparita insomma cioè vi era un talmente un dialogo interno dei diritti e dei doveri che era arrivato erano arrivati a un punto abbastanza vivibile pian piano poi dopo cos'è successo è successo praticamente che i riferimenti del socialismo dell'unione sovietica sono spariti le politiche estere e sono sparite determinati movimenti rivoluzionari avevano finito il loro compito e quindi è cambiata è sparita la guerra fredda è andato giù il muro di bellino e ha cambiato completamente anche le regole di comando qui in italia oggi cosa ci troviamo ci troviamo con una classe operaia che ormai è già la terza la quarta generazione dal punto di vista storico non conosce niente è solo vittima del consumismo sta godendo purtroppo dei benefici dei suoi genitori anche se operai che avevano conquistato con le loro lotte e sono talmente avvinghiati nel consumismo che non hanno veramente il cervello aperto e non si accorgono dello sfruttamento oggi ne è uscito il precario tutti sono precari perché non è precario solamente chi professionalmente non so è al primo gradino perché manovale perché un operaio oggi il precario è anche lo scienziato precario e anche oggi il primario dell'ospedale insomma cioè hanno inserito talmente questa cultura di disuguaglianza a livelli veramente bassi che ti fanno ripartire ultimo la globalizzazione la globalizzazione praticamente ci ha costretti che di discutere che insomma e qui la dobbiamo accettare insomma la dobbiamo accettare perché l'economia è basata sulla competitività ma la globalizzazione fa sì che i sfruttati si ribelleranno e quindi il pianeta terra non può vivere l'umanità non può vivere sul fatto della competitività ne dovrà uscire e qui ci vuole un salto culturale ancora grandioso bisognerà uscire praticamente da 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 queste regole e il capitale dovrà finire di esistere come capitale a distinguersi perché ci saranno i poveri e ci saranno i ricchi ma dovrà l'umanità dovrà avvolgersi in una più equa ridistribuzione e di vivere tutti quanti più in santa pace Italo Sbrogio la ringrazio per questa importante testimonianza e riflessione bene allora io ti ringrazio di questo mi tengo così a tua disposizione perché c'è ancora tanto tanto da approfondire che può servire ad aprire dibattiti a questa nuova generazione in cui appartieni anche te e che stai soccombendo senza avere capacità più adeguate di liberarci bene riprendiamo dallo studio 1 termina qui il nostro approfondimento di oggi grazie per averci seguito un ringraziamento anche a coloro che ci seguono dalla bassa toscana tramite le frequenze di teleidea ricordo che questa trasmissione sarà poi disponibile all'interno della testata online tv online e pianetaoggi.tv da Venezia che è diretta dal sottoscritto di nuovo buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.